Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video oggi voglio farvi il video spacchettamento di un ordine che mi è appena arrivato di un sito che è un sito barra farmacia ed è in trattinofarmacia.com che praticamente avevo visto su un video di una ragazza su youtube Alidinamos che questo sito aveva dei prezzi super convenienti aveva un sacco di sconti rispetto alle farmacie normali dove andare a comprare le cose e era anche interessante perché ci sono sia prodotti bio che prodotti da farmacia e quindi ho voluto dare un occhio, scusate anche oggi un po' per la miss, però veramente con questo caldo la voglia di truccarsi scema sempre di più e come vedete non ho niente di che ho messo un po' di matita nera, mascara blush, ho usato questo qui della nuova collezione di pupa della Coral Highland, che in realtà è più un illuminante barra blush, molto carino non so se si vede molto, e sulle lab abbrò la novità della Neve Cosmetics, che anche questo mi è arrivato ieri che è Yum Tint, che è una sorta di balsamo labbra colorata barra tinta, che infatti oggi ho usato tutto il giorno e quando avvia l'effetto un po' lucido del balsamo labbra rimane una sorta di color, come vedete violetto, ciliegia, rosato sulle labbra proprio come se fosse una tinta quindi lo sto provando poi vi faccio sapere cosa ne penso anche di questo comunque, ritorniamo al nostro pacchetto l'ho aperto aperto solo questa porta qui, così vediamo insieme cosa c'è dentro cosa dirvi mi è arrivato con il corriere GLS il giorno dopo che me lo hanno spedito ci hanno messo forse due giorni, uno o due giorni per prepararlo e poi il giorno dopo che poi me lo hanno spedito il giorno dopo praticamente oggi mi è arrivato a casa e come vi ho detto è un sito farmacia che ha sia prodotti naturali che prodotti da farmacia e ha delle offerte molto convenienti e in particolare c'è un prodotto che ho voluto prendere assolutamente perché aveva un'offerta sparatissima e uno di quei prodotti che va tantissimo anche qui su youtube ma adesso vedremo se c'è e com'è speriamo di sì allora sopra hanno messo questo straccio di cartone forse per proteggere ho ancora cartone cartone così e poi sotto ci sono i prodotti scontarino e altro cartone vabbè vediamo ecco qui i prodotti vediamo il primo allora ho voluto prendere la crema Venn questa qua è una crema per il viso proprio per chi ha l'acne ed è protezione 30 è una crema solare la prendo ormai da tanti anni e ho voluto prenderla da questo sito questa volta perché era anche questa in promozione e mi trovo benissimo va bene anche sotto il trucco è molto leggera non fa fuoriuscire i brufoli io veramente l'adoro quindi continuerò a prenderla anche penso gli anni successivi come vedete in questa scatolina qua comunque questa già la conoscevo sicuramente ve lo già consigliate in altri video comunque se soffrite di acne soprattutto in estate ve la consiglio perché è buonissimo poi ho voluto provare questa crema qui alla calendula che è una crema alla calendula della Profar e dicono che vada bene per le irritazioni e altro comunque vi farò sapere anche con questa come mi trovo poi diciamo che il prodotto super era questo qui che l'avrete già visto da prima che è il Velvet Soft Shoal una sorta di pelapiedi che impazza su YouTube tutti dicono sia buonissimo per levigare tutti i piedi tutte le parti più dure sui piedi e questo e questo costava sul sito se non sbaglio sui 23 euro e per me è veramente un prezzo molto conveniente anche perché costa circa 30 euro già quando è in offerta costa 30 euro quindi ho visto 23 e ho detto devo fare l'ordine anche solo per questo prodotto assolutamente poi ho preso un bassamolabra questo qui è della Roche-Posay di quelli con la protezione solare sembra abbastanza morbido non lascia nemmeno non dovrebbe lasciare nemmeno la scia bianca morbida e trasparente e l'ho preso proprio per questo perché ho letto delle recensioni che questo è uno dei migliori ed è protezione 50 perché spesso quando vado al mare mi sento le labbra molto secche così bruciate come se il sole avesse bruciato anche le labbra cosa molto probabile quindi ho detto vabbè quest'anno lo provo così almeno rimangono un po' idratate e infine l'ultimo ho voluto prendere una crema per il viso questa è la Effaclar Duo Plus se ricordate in un video precedente vi avevo parlato di come mi ero trovata bene con la Effaclar Duo normale sempre della Roche-Posay questo dovrebbe essere ancora più potente diciamo per quanto riguarda le pelle con l'acne adesso non ne ho tanti però devo stare attenta perché in questo periodo io mi riempio soprattutto appena vado a contatto col sole e niente questo è il mini ordine che ho voluto fare da questo sito di farmacia che mi ha attirato particolarmente di cui ero abbastanza curiosa e mi sono trovata abbastanza bene con le spedizioni anche con i prodotti perché comunque mi sembra che siano arrivati integri e vi consiglio comunque di dare un occhio perché i prodotti sono veramente scontati magari poi aggiornano altre marche che hanno sia cose bio che prodotti di farmacia normale marca Venn la Roche-Posay così e spero che il video vi sia stato utile anzi non vi ho detto che non ho pagato nemmeno le spese di spedizione perché oltre 35 euro sono gratuite e quindi conviene anche perché poi con i prodotti di farmacia solitamente si disfora sempre vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao mua